Non è possibile chiudere il mondo e i suoi giardini allo scambio e al confronto. Io sono Francesco Cecchetti, progettista di giardini e quello che stai ascoltando è Giardino Rivelato, un podcast che da cinque anni parla a quelle persone che pensano che abbiamo tutte e tutti bisogno di un giardino. E proprio perché penso che abbiamo tutte e tutti bisogno di un giardino ho approfittato per chiedere a una persona per me speciale per quanto riguarda la lo studio e la divulgazione della cultura dei giardini e del paesaggio in Italia e che quindi fa tanto proprio per avvicinare le persone, per condividere, per portare questa conoscenza alle persone. Stiamo parlando del professor Giuseppe Barberi. Buonasera. Buonasera. Allora, la frase che ho letto all'inizio, che ho ripetuto, che mi sono segnato, è una frase che dicevamo prima, mi è rimasta molto impressa di un suo libro. È un commento, in realtà, a me piacciono molto i suoi libri da tutti i frutti, ma in questo libro Abbracciare i giardini mi è rimasta impresso questa idea che il giardino non può essere chiuso al mondo, deve essere aperto anche eventualmente la distruzione. Sì, e questo può sembrare una contraddizione a partire dall'etimologia stessa. Il giardino però il giardino è gordo, guardo, come uno scrive che significa recinto, quindi servirebbe a chiudere parte del mondo dal resto. Una parte dove poi coltiviamo il meglio della natura, il rapporto con il meglio della cultura. Questo è il giardino e fuori c'è il deserto, la foresta, la città e tutto. E questo è vero, no? Questo è sicuramente così. Il giardino nasce, per il migliaia di giardino nasce il giardino stesso, nasce per proteggere i primi segni, le prime piante che abbiamo tratto dal selvatico. Le avevamo conosciute, ne avevamo avuto esperienza da cacciatori e raccoglitori, a un certo punto diventiamo stanziali, semplifichiamo la storia al massimo, naturalmente, e quindi portiamo, prendiamo i semi o trapiantiamo queste piante, ma ci accorgiamo che dobbiamo proteggere, dobbiamo chiudere, dobbiamo creare un recinto. Allora, questa idea del recinto, se da un lato è assolutamente insica nelle radici linguistiche del giardino e anche della sua storia, però poi dal resto nessun recinto è mai impermeabile. Dal paradiso si esce, non si rimane chiusi, da Medeva sono cacciati perché possono uscire dal paradiso e fuori dal giardino riescono a creare il mondo, a dare via alla storia. I giardini non sono mai chiusi. Io capisco che questo in qualche modo vuol dire, vi posso anche comprendere, il giardino è aperto al cielo, è aperto agli uccelli, aperto al ventolo. Al decadimento. Al decadimento. Gli uccelli, il vento e il decadimento possono essere controllati, ma non esclusi. Il giardino non è una serra chiusa, neanche nelle sue forme più estreme che il giardino di Pantelleria, il recinto di petra secco con la porta che apri, che a mistello entri e dentro un solo albero, un solo albero. Penziosissimo. Anche quello è un giardino poi alla fine è aperto, perché il giardino presuppone, non puoi vivere in un giardino e sei in continua comunicazione con quello che è fuori dal giardino. Il giardino è l'eterotopia, l'eutopia, come viene diversamente detto, scritto, eccetera. È il luogo della bellezza, della pace, del piacere. Sicuramente, la pace, la bellezza, il piacere, i frutti, i fiori, ne hai consapevolezza, ne hai contezza se conosci l'esterno del giardino. Dentro il giardino l'albero è del bene e del male, non è soltanto del bene, non a caso. Quindi il giardino è necessariamente aperto all'esterno. Il giardino giardino è sempre uno spazio dinamico. Quindi anche a rischio. Naturalmente, naturalmente anche a rischio. Perché è affascinante questa cosa che noi pensiamo sempre di dover proteggere ad ogni costo ogni elemento culturale che ci viene dato, ma mi viene in mente un po' Umberto Eco quando parla degli archivi, no? Cioè il lavoro dell'archivio è quello di selezionare delle cose e alla fine c'è una selezione di elementi culturali e paesaggistici di giardini nella storia e molti dei giardini belli di cui abbiamo traccia nei testi, che sia a Roma, che sia a Palermo, a Napoli, a Milano, nelle campagne italiane, in tutta Europa, molti si sono persi e noi possiamo solo sognarli in qualche modo. Sì, sì, certamente. Poi adesso va, si discute molto, si persegue anche il filone progettuale del giardino selvato. Sì. Che in sé è una contraddizione. Certo. Perché il giardino, in teoria, è il massimo della cura, perciò, tra il giardino alla francese, l'Arstopia, l'idea di giardino di Wild Garden di adesso, c'è un abisso, no? Certo. Certo. Ma proprio perché secondo me nel giardino si deve, si misura il rapporto, si misura il confronto tra l'uomo e la natura, no? Certo. Certo. No, distinzione ambigua, perché quanto l'uomo sia separato dalla natura è cosa, come sappiamo, ben molto, molto discussa, no? Sì. Però tra l'uomo e gli altri elementi, gli altri organismi, le altre parti del sistema, del sistema natura, tutto questo si confronta all'interno, all'interno di un giardino. Ho una curiosità riguardo al suo ultimo... Posso dirti prima cosa, io questo ci tengo, io vengo poi da una terra, no? Che è la Sicilia, in cui il giardino è uno spazio, in alcuni casi chiuso, sì, ma è uno spazio agricolo, è uno spazio della produzione, è l'orto e il frutteto, è aperto ai mercati, è aperto agli scambi, è aperto alle innovazioni, non è un luogo chiuso. E questo secondo me è molto... diventa molto interessante adesso, in cui abbiamo il tema, non lo diciamo più, ma fino a tre, quattro anni fa, se qualcuno non citava Gilles Cleman nel giardino planetario, era assolutamente fuori gioco. Sì, è vero. Invece Gilles Cleman aveva perfettamente ragione. Certo, perché adesso è diventato, è stato acquisito, quindi non è più... Ecco, nel gioco delle etimologie, sappiamo bene che cultura e cultura sono la stessa parola. prima ancora, questo è molto... quando l'ho scoperto ho fatto un piccolo santo di gioia, subito l'ho scritto nel libro, in questo, in qualcun altro, che vengono da un'antica parola indoeuropea, che è QR, che ha la WL e qualche... Con le scritte piccole. Che significa rivoltare, no? Ah. Quindi rivoltare la terra, oppure il volgere delle stagioni. Ah. E questo è molto interessante, no? Perché la cultura presuppone un movimento, quindi. Poi cultura, cultura e cura... Certo. ...sono esattamente la stessa, hanno esattamente la stessa, ha lo stesso regno, anche culto. Anche culto. Questo è molto... E anche inquilino, perché... Sì, scusa, anche inquilino, questo nemmeno saperemo. Incola, l'abitante del... Sì, certo. Che era all'interno e che fuori era exquilino. Certo, certo, giusto. E quindi c'è un'idea di colere... Certo. Però magari adesso c'è un etimologo che ascolta e sta rabbrividendo, però... Meglio, meglio così, che rabbrividisca. Ma... Allora, io volevo fare una domanda riguardo al libro Il Giardino del Mediterraneo. che non è Il Giardino Mediterraneo. No, no. Ed è una definizione importante perché poi all'interno di questa idea di giardino del Mediterraneo, quindi del Mediterraneo come mare, del Mediterraneo come concetto... È un libro sulla Sicilia. Certo. Come si scopre subito. Però la Sicilia è spesso indicata come una sintesi, come una spiegazione del Mediterraneo. Esatto, esattamente. È al centro, lo spazio chiuso è definito. Come giardino. Come un giardino. È il luogo però di incontri, di incroci, di parti di culture e culture diverse. è il giardino che conosco, no? Certo. Quello dal quale... Poi il Mediterraneo e il mare in mezzo alle terre significa, no? Significa questo. Certo. Quindi... Ma... Lei ha un giardino? Io un giardino, sì. Ma quello sì, è un giardino, un giardino. Un giardino perché io sono, diciamo, vivo in quella che è stata la casa di famiglia, nella Conca d'Oro, quindi nel giardino per eccellenza, no? Il paradiso interno. La paradisiaca Conca d'Oro di Brodelli. Di Brodelli. E vivo lì nella casa che era della mia famiglia, dei bisnonni, eccetera. Ed era una casa nella quale andavamo... Quando ero ancora a scuola andavamo soltanto d'estate, d'inverno andavamo in città. Ed era una vecchia casa, una casena, all'interno di un grande giardino di mandarini, di agrumi. Io passavo lì, io, mio fratello e mia sorella, passavamo lì tutte l'estate, il periodo quando finiva la scuola. Esattamente nel 66, 67, ne scrivo in un libro che amo moltissimo, che è Conca d'Oro, quel libretto che ho pubblicato per Sellerio. La campagna attorno a questa casa è stata una delle campagne investite dal sacco di inizi. Adesso la mia casa, che è circondata da mandarini, è circondata da palazzi di dieci piani. Se ne è salvato un pezzetto, duemila metri, duemila e cinquecento metri, che invece appunto sono diventati il mio spazio. Il mio spazio chiuso, sì. Confesso che lo coltiva mia moglie, non io. Io ne godo, godo del suo lavoro. Che è il lavoro principale da svolgere in giardino, quello di potere. Certo, esattamente. E poi in realtà, una cosa su cui io ho deciso che parlare di giardino, perché tendo ad essere sempre abbastanza comprensivo verso tanti modi di vedere, perché il giardino è tutto, se vogliamo. Però noi adesso ci troviamo nella condizione di dover prendere delle posizioni nel modo di vivere il giardino, di fare il giardino. Noi in questo momento ci troviamo alla Casa Museo Fratelli Cervi per la scuola di paesaggio Emilio Sereni, dove lei ieri ha tenuto una lexio magistralis sull'influenza araba nel paesaggio siciliano. In un certo punto ho detto una cosa che mi è rimasta impressa. Forse cito male, però non si può improvvisare il restauro del paesaggio, non si può improvvisare un paesaggio. Il paesaggio va praticato, bisogna avere un'esperienza per poterlo cambiare. E molto spesso noi abbiamo un'estetica del giardino che viene più da preconcetti che da un attuale desiderio di vivere nel mondo. Sì, sì. No, infatti noi abbiamo, e forse dovremmo, anche queste cose che dice la produzione del giardino salvatico, e dobbiamo finirla con gli stereotipi. Il giardino all'italiana, il giardino francese, il giardino inglese, il giardino contemporaneo e così via, tutto questo. Il giardino è il luogo dell'incontro tra l'uomo e l'uomo sapiens che si confronta con l'ecosistema. È vero. E questa è la grande domanda che ci può ai tempi presenti e ai tempi che verranno. Coltivare non è più prendersi cura del proprio giardino, dei propri fiori, ma è nell'invito, seguendo l'invito di Voltaire, ma con la visione dell'altro grande francese che è l'Inclement, è quella di occuparsi del proprio giardino, considerando che il primo giardino è planetario, non è chiuso all'interno di un confine. e questo diventa, questo secondo me è interessante. Io sono un agronomo, non ho studiato per fare giardini, no? Io ho studiato per coltivare limoni, per coltivare cichidinghi e coltivare i mandorli. Queste sono le tre, le tre conture, conture, conture. E lei ha coltivato anche un altro ruolo nella sua vita che è quello della docenza. Sì, certo. Perché è spesso accomunata, è spesso accompagnata l'idea del giardiniere ortolano, di quello che si prende cura dei virgulti della coscienza. Sì, sì. Con l'università magari diversamente rispetto alle scuole, ma... Io ho avuto, questo non l'ho mai confessato, adesso lo posso fare, io ho avuto sempre una sorta di imbarazzo nel fare il docente di agraria. Perché mi dovevo confrontare con il 99% degli studenti che seguivano i miei corsi erano agricoltori o figli di agricoltore. Certo. Avevano quindi una capacità tecnica anche, comunque di rapporto col campo, con la campagna, con l'idea siciliana di giardino che io non avevo. Questo in certi momenti per me è stato imbarazzato, in certi anni invece è stato molto stimolante, perché ho capito che il giardino non era soltanto produrre 100 tonnellate di agrumi o 50 quintali di... Certo, anche di rilassarsi. Ma era anche prendersi cura del mondo. Certo, certo. Prendersi cura... E' un'occasione per prendersi cura del mondo. Oggi si chiamano multifunzionalità, si chiamano servizi ecosistemici, no? Per me è stato molto importante trovarmi nella condizione che non era una condizione di pertenza. Io ho iniziato a fare agraria perché dovevo trovare... La scusa era il 68, 69. Dovevo trovare la scusa per non lavorare con mio padre. Dovevo fare altro. E fare altro in quel momento significò... Papà, per lavorare meglio con te devo fare agraria. Aveva un'agenda di trasformazione del latte, di yogurt e tutta ciò, l'agenda di Palermo. E quindi trovai... trovai tempo. Poi quelli erano gli anni... Della protesta. Della protesta. Della... Della... Sì, della confusione culturale, no? Della messa in discussione. In quel momento mi occupavo di musica, di teatro, di cinema. Leggevo libri però studiavo agricoltura, no? Certo. E questo c'è nella sua produzione. E questo è importantissimo. Questo per me è stato importantissimo. Mi sono trovato perfettamente a mio agio. Quando mi hanno detto... Quando è arrivato il momento dell'ambientalismo. Certo. Il momento è stato molto importante. E ho seguito... Che per un agronomo in Italia, se posso dire, non è nemmeno scontato. No, assolutamente no. Assolutamente no. La scuola agronomica forse adesso è un po' cambiata. Ma soltanto in certi... In molti casi l'agricoltura biologica, che adesso come idea è anche un po' controversa in questa schematicità della definizione e delle regole fisse. Per quanto mi riguarda è più interessante la visione agroecologica. Quindi questa capacità non severa di usare i mezzi di produzione dell'ecosistema dell'agroecosistema. Questo è stato... All'inizio molto... Per me è molto importante. Perché è stato facile confrontarmi. Sono stato, credo, anche un innovatore in questo senso. Prima ancora che i miei colleghi nella mia facoltà e nelle altre capissero che quella era la strada del successo accademico. Prima ancora che economico, sociale, eccetera. Forse proprio perché ci arrivava con un bagaglio che non comprendeva solo l'interesse agricolo, ma che in realtà si arriva ad altre fonti. Certo, certo. Assolutamente. Poi non ho mai smesso, e questo è stato per me molto importante, di occuparmi di altro. D'altro significa... Ho avuto un... Ho guidato un cine club, o... Mi sono... Ho continuato a leggere letteratura, per carità, assolutamente fondamentale. E questo si percepisce benissimo nei suoi libri. Questo secondo me è importantissimo, questo secondo me è importantissimo. Importantissimo perché... Beh, perché... Uno dice, come si chiama, adesso non mi ricordo, dice anche questa cosa meravigliosa che è assolutamente vera, che è la lingua, la migliore lingua per descrivere e raccontare e comprendere un giardino è la poesia. Certo. L'arte in linea generale. Il paesaggio arriva con un quadro di Tiziano in Italia. Esatto. Poi diventa... Poi diventa... Poi ci mette secoli per diventare visione complessa del nostro sguardo. Il nostro sguardo rimane sempre fondamentale nel paesaggio. Certo. Non è un dato oggettivo il paesaggio. Un dato... Oggettivo. Un dato filtrato dalla propria sensibilità, dalla propria cultura. Io molto... Spero che non succeda, devo dire, tranne alcune avvisaia che mi ha... Che è stata preoccupante questa modifica dell'articolo 9 della Costituzione, no? In cui il paesaggio che finalmente avevamo capito che comprendeva tutto. Utilità e bellezza. Non soltanto bellezza, ma anche utilità. Si è stato... Di cronome invece è suddiviso in... Si è giunto un comico. Che è come se togliesse al paesaggio la nozione di ambiente, di ecosistema, di biodiversità, i diritti degli animali, tutte cose che avevano già dentro il paesaggio. Il paesaggio rischia di tornare a essere l'aspetto estetico. La cartolina. La cartolina. Che è poi l'eredità crociana che avevamo, no? Si, certo, certo, certo. L'abbiamo visto adesso spesso con le proteste per l'ambiente. No, figurati. Quando... Quando mi ha colpito spesso il discorso, fatto anche da persone intellettuali, progressiste, del... Non si può difendere l'ambiente e attaccare l'arte. Perché nel nostro impianto culturale sono la stessa cosa. Anzi, una fontana ha più valore di un albero. Perché la fontana l'ha fatta la nostra cultura. E un albero non piange quando lo taglia. Infatti, una sfida che non abbiamo, che non stiamo accettando, e che invece è fondamentale, sarebbe fondamentale approfittare di questa sfida, è quello dell'inserimento delle nuove energie nel paesaggio. Sì. Il paesaggio è sempre stato... Ogni rivoluzione energetica ha avuto il suo paesaggio. Certo. È sempre stato tutto. Siamo pieni di linee elettriche che non hanno rovinato il paesaggio. No, siamo pieni di strade e di macchine. Di cemento. Siamo pieni di carbone della rivoluzione industriale. Abbiamo bruciato boschi, abbiamo creato laghi in montagna. Siamo sempre stati... Adesso c'è un bel libro che mi piacerebbe ragionare di più, che riguarda il pentimento di Prometeo. Diceva, io non potevo lasciarlo là, l'energia, gli dèi, invece di portarla qua. E adesso siamo pienamente consapevoli che dobbiamo trovare altre fonti di energia, no? E quindi ridurre il consumo di fossili. Abbiamo messo da parte l'idea della sobrietà. Non se ne parla più. Il risparmio energetico è diventato fuori modo. È come se fossimo obbligati a produrre tanta energia. E questa energia la dobbiamo produrre con le fonti rinnovabili. E quindi litighiamo dove metterle, come metterle, quali mettere, no? Litighiamo su questo. Noi mettiamo in contraddizione la necessità di un cambiamento energetico con la necessità di tutelare il paesaggio. Non capiamo che questo potrebbe essere il modo di creare un nuovo paesaggio. Qual è il paesaggio delle rinnovabili? Sì, certo. Siamo sicuri che... Qual è il paesaggio delle rinnovabili? Non voglio... Non sto dicendo che dobbiamo mettere pannelli fotovoltaici dappertutto, assolutamente. Ma se li dobbiamo mettere dove? Ma da qualche parte dobbiamo produrlo. E allora dobbiamo disegnare un nuovo paesaggio. Il giardino planetario è anche questo. Pare quasi che il concetto di utilità, cui si piega tutto, in realtà sia monco e anche molto malleabile. Beh, sì, certo. 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 Esattamente, esattamente, ma le ha. Utilità, utilità è una parola, appunto, utile e dolce, dedicata alla poesia. Esatto. E vaga. E, appunto, l'idea che abbiamo abbandonato la strada mesta, abbandonato ufficialmente, che è quella della sobrietà, no? E quindi, usare il termine, non usare più la parola crescita, che invece continua ad essere centrale, no? Certo. E questo, secondo me, è il grave, è uno dei temi, forse il più grave che stiamo vivendo. E allora ho una domanda per chiudere. Cosa può fare un giardino in mezzo a tutto questo? Cosa può fare l'occuparsi di giardini, l'avere un giardino, interessarsi di giardini? Cosa si può... Insomma, quale... Non dico niente di nuovo, ma la filosofia è nata all'ombra degli alberi, no? Certo. Come proprio... Hanno incominciato a regolare Pitagora e poi gli altri all'ombra degli alberi. Le loro pagine, descrizioni di paesaggi, di via di giardino, arriva un po' dopo nella cultura carica, che sono assolutamente sardinei. E quindi questo deve fare il giardino. Ci costringe a misurarci con l'utilità e con la bellezza, insieme. Non deve essere fruttifero, ma anche direttevole. Questa... Questa è secondo me la grande sfida. E soltanto nel giardino poi... Lo dice... Lo cito in Abbracciare gli alberi... Lo scrittore inglese che parla di un rosetto, no? È bellissimo. Lo dice che in quel giardino puoi ascoltare l'inascoltabile, vedere l'invisibile, no? Pensare l'impensabile. Il giardino è il luogo dell'innovazione, dell'ammissione, del pensiero. Titilo, sub patulè, sub tecno... Agilo. Non so che quando vi suonare i campi del flauto per la bella Marillide. Certo. Il giardino è questo. Il giardino è il ruolo... È un laboratorio creativo che non si misura solo con l'economia, ma si misura anche con la bellezza, con la bellezza, con l'ecologia, con l'etica, con l'energia, se vuoi, no? Come dicevamo prima. Il giardino è lo spazio per che questo possa essere fatto e pensato. E questo, allora, per concludere, perché alla fine anche noi siamo un po' come dei giardini, perché dobbiamo rimanere per forza aperti, almeno da un lato. E anche quando ci chiudiamo la... Beh, c'è una grande domanda. Il giardino che fa il giardiniere o il giardiniere che fa il giardino? E con questo penso che possiamo salutarci. Penso di sì. Grazie mille a Giuseppe Barrera e grazie per averci ascoltato e per aver passato questo tempo con noi a chiacchierare con la scusa dei giardini. Grazie. Ciao.